Ciao ragazzi! Oggi andremo a provare Theonioning. Un gioco di Shrek su Roblox. E ora intro. Inizio a precisare che Roblox a me non piace orarlo gioco solo perché non è disponibile in Horrors Bank. Quindi non insultatemi. Vabbè comunque dov'è Shrek? Andiamolo a cercare. Allor che c'è un bivio dove andiamo? Vabbè andiamo a destra. Eccolo lo abbiamo trovato. Ma è incastrato. Vabbè sti cazzi. Ravga comunque grazie per i 7000 follower. Oh 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 mi insegue lo denunzio. Ti denunzio Shrek Esposito. Top 5 Scariest Jumscares. Scari Alerts. Número 5. Dovemo? Ah eccolo non entrare. Non entrare. Strunz 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 strunz. Sono sopra la casa. Me ne fuglio. Fuglio significa scappo. Ah. Sei bloccato a non più. F nei commenti. Ah. 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 Grazie a tutti.